Oh Perchè non mi dà l'artiglieria? Piace cosa porto? Aldaste Sono Aldaste Aldaste Portare Palace Trezza Idem Ah fa questa sbagliata Perchè noi andiamo sulle mure Lasciate gli soldati sulle scale Se arriva qualcuno Chiamate la vostra unità per ucciderlo Ciao In caso ci sarà Supporto da dare al Supply A sto punto il mio squadrone di Star Wars e forte braccio Si ritira dalla porta e ci resti te E noi andiamo al Supply Fellowship sono bravi A noi ne manca uno Allievo allievo Giochiamo bene perchè interiori Fellowship non sono come gli Iron Jungle Warchard tu con gli X-Raider vai su e fai capo a Piace per il momento Che gli devi dare una mano sulle mura Ok Portati dietro anche artiglieri o baliste che dovrete intercettare le artiglierie nemiche Perchè siamo in meno? E' entrato C'era un perché Siamo giusti Vabbè Allora il gruppo Vabnet sta qui Possiamo fare join battle Appena muore qualcuno entriamo Noi di che cosa ci dobbiamo occupare Ok Gruppo dao Ludao alla porta Come sapete Abbascudi Stanno passando tutti da destra gli eroi quindi Ne servono un po' per buttare giù le scale Endless fai già cambio con gli Ax Ok Dov'è il Supply più vicino? Forse mettono cannoni Metteranno di sicuro Eccoli qua Stanno andando tutti nella parte destra mi sa Gli Ax Gli scudi mettili in riga Davanti alla porta Davanti Vedi mi forte braccio questi qua scozzesi Sopra loro devono essere Ok Scatoo vado a dare una mano sul mura? Certo a destra Ah ok Capito Informazione a riga Sai cosa ti dico Scatoo? Per me puoi già andare direttamente sulla possibile sbreccia Perché sono tutti lì e vogliono far quella Allora vieni con me Riox Eh? No che talus Porta l'unità eh Sì sì Mi metto davanti le picche di Gorenor Endless se la situazione si fa dura Alla breccia Torna giù Prendi palace E vieni da sì Supporto da dietro Scusa ma abbiamo due unità di picca a destra E zero a sinistra Guardate che c'è la scala un po' più a sinistra Comunque cercate di coprire il portone Scusa ma Dicopiergli meglio Stanno spostando a sinistra E Ok Bene E gra Mettili sotto i miei star wars Se magari Se c'è la formazione più chiusa Allora quegli star wars la priorità è sui forte braccio Mettili sui forte braccio rigore Scusa ma no Raja Fai il case Lascia pure le linee alle palace Come è? E' già non sfondata la porta Sì la porta Sfondata la porta c'entra Ok Yox Vieni qua vieni qua Vai sopra qua questo muro Se è un arciere vai dare un po' di support intanto Ok Ma di che sono le unità che stanno uscendo? Da Ah saranno O qualcuno che ha sbagliato a mettere il follow O quelle là del gioco Sì sono quelle base Ma di che sono sti forte braccio che non sono piazzati Che li vedo alzi Eh ma neanche il bug dell'altra volta anche io Ti voglio dire che vedo i forte braccio Tre eroi E alla breccia Arrivo Stanno mettendo sul cale Arrivo su anch'io Un martello sta attaccando la breccia Non so cosa faccio Non so cosa faccio Sì Sì Ovvio Vabbè Quei miti che voglio sapere che cazzo ci fanno i fellowship Non lo so Hm? A caso Non lo so ma che te frega Sì sì Ti cambia? Ora mi cambia C'è uno Magari se è un po' più una sfida Beh se vengono insieme agli iron Che sono dieci Vabbè? Se vengono insieme agli iron Per il momento è tranquilla Cioè c'è il mondo ma non stanno pushando La sono vista brutta contro gli NPC No Cazzo Vabbè se c'è qua di questa cosa Io contendo non c'è crematine da su Più 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 Tu davo Una domanda Come Meglio con la 1 attiva o disattivata Allora quando entreranno mettili Quelli Quando si inginocchiano Stanno entrando Stanno entrando Entrano Ci sono Ah ero riper che passano Ero riper che passano Ero riper che passano Vi è ci continuiamo sulle scale ma E c'è Oddio Adors di qua Io Sono indietro Alla porta E Mamma Ma Scusa è già giunto Visto Visto C'erano urtato di Cattiveria Un attimo Un attimo di Sì 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 Guarda quanti riper che ci sono Quanti riper che ci sono Gruppetto mio mettetevi il master adesso tutti i master Tutti pronti a entrare Mamma mia quanto sono Ma serve che cosa Che hai riportato Ehm Picche Scudi Palace Palace Chi ha palace Porti palace Chi ha cavalleria porti cavalleria Continuo a sparare o vado a prendere palace Che cosa Vado a cambiare truppa anch'io perchè non lo ho Sto Sto andando al cap eh Chi ha palace porti palace Chi ha cavalleria porti cavalleria Wattchard Ehm Waru Servono i cashing Ehm Sono fuori Conviene Conviene andare L'ho beccato sul Cap final Esatto Vieni veloci Ehm Marti te che hai i Forti braccio vai al cap finale Piazzali subito Ok Io sono i spectator Non chiudete dietro eh Tenete aperto fino alla fine È già chiuso di qua Sono morto raga Marti te vai subito al cap finale Allora Chiudete Esatto Chiudete solo questo Questo qua Quello deve stare chiuso Il resto è aperto e si entra Ehm Forti braccio forte braccio Mi che io che combino Quello devo fare Ehm Devi venire qua a Tura Mitic io Scorpio cosa devo fare? Ehm Attura Fai join battle Mettiti in mastering che sono solo in mastering Ehm 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 Ok Allora unità Unità per uccidere Unità che faccia danno che per carica Non scudi per ora Dobbiamo uccidergli i reaper e poi formare gli scudi Venire proprio in movimento su sul territorio Eh Sì 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 Suttura Allora Chiudete il cancello Buttateli fuori Eh son morto io Perché Ah li hao mi hanno shottato Sto shottando i li hao io Per quello che durano Ole Buttateli fuori Non chiudetelo quel cancello Un attimo che mi rimetto a guardarvi dallo strategic Sarfola del rigore L'altra porta com'è Un minuto e rientro Dieci secondi e posso rientrare Proviamo a riprendere Hicks o Eh sì 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 Bisogna riprendere la Hicks e buttarli fuori Non si sta a venti minuti così sotto quello Palace in arrivo x modau Gorenor dentro è un reaper Perfetto Ora che guarda i reaper mettetegli dietro scudi e pk i reaper Prendo Stato questo con i Zergeres Eh Ti prendo io quelli scudi i reaper di Gorenor Sì 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 Quell'assassino L'ha fatto fuori Ci sono Keshig ovviamente Due uniti di Keshig Eh insomma 3 unità di Keshig 3 unità di Keshig Cosa porto Mordo Scudi Sono morti i Keshig Chi è che è entrato Che vuole sapere cosa portare Io Porta scudi Ok Meti oltre ai falconetti che porto Hanno sfondato la porta Porta cavalleria pesante Monastic Preferirei ussari Provano bene monastic Se non li hai mai ussari maxati Advance di quella picca su Keshig No sono morto Non posso Dalla porta Dalla porta che le picche sulla porta Advance versi Keshig Perfetto Perfetto son Keshig morti Ussari morti Uccirete a loro gli eroi Sì Vai fino a sfiderci Sono entrati dall'altra porta eh Sono entrati dall'altra porta Sono entrati con gli AX Occhio GK switcha dall'altra parte Io devo andarmi a curare l'unità Che non c'hanno vita Perfetto Cura l'unità E vai a succedere questi Ok Dove devo venire? Eh Tura 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 E vi metto in coda? Eh sì 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 mettetevi in coda subito appena siete pronti Carica con quei reaper Che core con i reaper caricalo Eh lo posso Finita la carica Perfetto ammazzali Ammazzali Ammazzateli Non hanno unità È il momento di buttarli e ucciderli tutti Non hanno unità Buttate uccidete e prendete supply Tura? Tura Ehm Picche Chi ha forte braccio Prenda forte braccio Riformate le linee Ryux Punta quelli sui supply E tu proprio Tu proprio come persona Tira su delle persone Modao fermi Modao fermi Tornano indietro qui Modao sulla destra Arrivo Qua ci sono caching Pia ci sono tuoi quelli Sì Fagli sparare Modao Ehi Cachy dove spari i Cachy Gucci di Cachy Perfetto Devo fare battoli Ok Eh sì 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 Una bella sorpresina Questa Guarda fai attaccare quei reaper appena puoi Guarda quanti siamo Questo cazzo cazzo Oddio Giudavo fai fare la carica a quei cosi Eh la due Fai fare la due in modo da... Eh la sto facendo Oh Ok Guarda dietro cavalleria abbiamo Cazzo Guarda che hai portato caching Perfetto Punta i eroi Non puntare truppe Punta eroi Sì Ok Va bene Non teniamolo per cancello Portali fuori E inutile stare lì Eh Non hanno unità Ma quando mori non ti puoi mettere in coda prima di tu No 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 non puoi Non è prima di tu Udito o palace O picche Palace Palace Dovete buttarli fuori un secondo Tornete tutti i supply Tutti Chiudeteli fuori Riformate i fortebraccio qui Dove devono puntate Via Guardate ucciderli Eh Waru Chard continua a puntare gli eroi Ottimo Ok Waru Chard tu esci Con l'unità esci fuori dal cancello Prendo Quei mona Quei mona Che esci fuori dal cancello Il primo che entra con cavalleria Oltre a lui esce fuori dal cancello con lui Stesso lavoro poi dal cancello eh Punta gli eroi Quando hanno finito quella advance Che ha le piccole lì al centro Faccia advance lui e io a sua volta Eh mi serve un pute Eh vetti cartieria Eh Artiglieria Grape Due grape e un cannone Ok 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 Waru Vai a cercare lì fuori Vai a cercare lì fuori con quei cash Fuori 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 Andate a cercare fuori Non hanno niente fuori Andate a prendere Io ho gli Axe Raider vado fuori Lanciate i modao di Ludao I modao di Ludao Che bello e restano sulla X E gli altri tutti fuori Non possono prendere il capo Perché se vedono le eroi Senza unità mi sa Si si Hanno gli eroi senza unità Andate a cercare fuori Massacrateli Aspetta che cazzo sono quelli Ci sono solo tanto dei reaper Adesso Si Se ci sono degli shenji Che avevano ripiglia Ci sono error Mi porto fuori Si porta lì fuori e tiragli le grate C'è un di mezzo Quei palasi in ginocchio Che li passi fuori in ginocchio Stanno arrivando per chiare un reaper Altro su che Chi è che chiede permesso? C'è un di mezzo qua fuori cosa C'è un? De mezzo C'è uno della bella Lasciate sta raga Il magia No lascia perdere un po' lì per fuori Dobbiamo difendere la città Nostra questa Quanto è stato Dove siete più in attesa qua fuori? No Entrate nella città Mettetevi Giò in battle Che siete in attesa dentro Per entrare Hanno Ussari Preparate le picche per fermare quei lusceri Mi stanno massacrando Ok forte braccio che guardino verso sinistra Che ne sono ora Ok tiro dentro il Sanji se no Perfetto non vi hanno fatto niente praticamente Ah è finita loro No non è finita Ah ok Contrate a ucciderli Contrate a ucciderli Massacrate e buttateli fuori Ando a ricaricare le bombe io eh Perfetto RIPER DI GORALOR QUASI MORTI Ok Arrivano altri cashing Mi serve esatto Con la linea di Modao Benissimo Chi è che ha le unità dentro al cancello Al cancello proprio ferme Io ho delle pike Imperial pike dentro No 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 Ci sono delle unità proprio ferme qua Ah Endo sta entrando Mythic stalwarts palace axe Axe inizia a buttarli fuori Continuate a buttarli fuori NOR NOR E AERON RIPERDITORE NOR MORTI Eh eh Mi dotevo Continuate a massacrare Arrivano Imperial Arrivano Imperial Hanno wastata l'ampanze Imperial eh Non ce l'hanno L'hanno wastata Mi piace Rieci dare un paio di curate ai miei Modao Raga c'è gente fuori che serve una mano Portate unità d'aggressione fuori Palace Chi ha palace EX Chi ha rex Forza Tuoi Modao fuori Diti qua No 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 Ehm Mythic Doh mi è entrato Cosa porta Shengi Preparati alla porta Fra un po' cura lasciano dentro la porta Quelli fuori Entrate gli eroi Lasciate l'unità Entrate gli eroi Lasciate l'unità Ho cambiato in breve A prova dico io Ho richiamato l'unità Entrate voi tutti intanto Sì La linea è formata con i forti braccio Sì Pietro Pietro entra Ti vedo girare Rientrate tutti Rientrate tutti quelli fuori Ismael rientra Tutti dentro Qualcuno ha una pure da buttare sulle pike A sinistra Tira Ismael appena arriva No 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 Cavallo muore Ehm Queste picche Queste picche qua Un pelletto più del portone Un pelletto più indietro Eh niente va bene va bene Va bene così Va bene così Niente va bene così Quelli che sono morti pazienza Succede Aldaste cerca di usare gli incendiari In mezzo ai cashig Fai un sacco di danni Queste picche Un pelletto più indietro No un pelletto più indietro Alla se non servono più Mettete scudi Mettete scudi Sopra le picche Mettete scudi Sopra le picche Servono forte braccio Nessuna forte braccio Alla in mezzo Allora Cambio le paras con scudi Ok Mettete scudi Sopra le picche Se non servono Prendi scambi Sì Scambia Lascio gli scambi La scambia No Luda Sposta quei modau Metti di lato Preparati a fargli fare la 2 Non fargli fare la 1 Falle attaccare con la 2 Adesso che entrano Un massacro Riformate tutta la linea Con forte braccio Non ha nero reaper Quindi non entreranno I zampognai, attacco Metteteli in continuo attacco I pike sulla sinistra, un paio indietro Eh, infatti, quello che sto continuando a dire Di chi sono i terci, i terci? Acqua, i terci, mettili di lato, non metti lì davanti Ce ne sono tre che vogliono aggirarci Eh, uno sulle mura con me Ok, arrivo su sulle mura Io sono sulle mura Corri C'è gente Ancora sulle mura Anzi più di 4, 5 E qui? Ci sono 5, sulle mura di destra Occhio al martello che vi butta giù Dove vanno gli scudi? Non fatevi seguire da Yax Fatevi seguire da Palace sopra, no Yax Yax si vengono troppi danni Sembra una strontata Lo salite e se ne vanno tutti Ok, il tunnel della morte è fatto Sapete cosa fare? Tutti sopra le mura e buttateli in giù Non portate le unità Andateci voi Sono salite dalla mura dove c'è la breccia Vedo una Allora, hanno degli Iron Reaper Qualcuno ha cash o simili? E' me finiti A stare in attesa di entrare Ok A sinistra le scorte Stanno arrivando da 10 Stanno arrivando da 10 Va bene, hai pala su qualcosa d'attacco? Sì, hai i meta terms Ho Imperial, vecchie, picche Prendi vecchi Taralfa, prendi qualcos'altro Dove l'assalto pure tu Non so che hai appresso Cambiate unità Ex Raider Usate quegli Ex Raider come distrazione Salvatevi voi Morto Uyghur Ok, il prossimo che entra non lo so Preparatevi unità per fermare quegli Ex Raider E' solo gli Iron Reaper Non fategli toccare i supply Caricano con l'unità sui fortebraccio o muoiono Non fategli toccare i supply E' quello che ho dovuto fare Quelle picche là sotto Esatto Mi piace, bellissimo, va bene così Avanzate con gli scudi Così bloccate gli Iron Reaper in mezzo E li uccidete Mamma Io sono in coda per entrare Insomma, l'altro di due Axie Gli scendi là dietro Piace granata E' pronto adesso Buttaggela A me mi hanno gavigliato Gli Shengi Buttaggela Gli Shengi Sono morto Sono morto Ok Le Imperial e le Imodau Esatto I fortebraccio restano Non muovete i fortebraccio Da quel punto I fortebraccio si ritira Non mi dica Sono morto Ravremo Palas Palas Gaster dentro Sono morto Palas va bene Gaster dentro Porta la Cavalleria O con cui tu per l'assalto E chi si stanno rinanando Uccidete o quell'assassino Valerio Uccidete o quell'assassino Valerio Scomparso Ok Se ne vanno i palas Che chi hai d'assalto Monastic Tu porta monastic Intendo amarti Quindi tu fai d'assalto Assalto Dovete ucciderli E buttarli fuori dalle mura Perfetto Entra e ciò Arrivo Scudi Ax Amizia Sono morto Ax 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 Qualcuno deve sostituire Forte braccio Di domi alla porta Però Non apprezzare Non apprezzare Stanno andando gli scuri Forte braccio Guarda 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 Porta i forte braccio Perfetto Hai finito le munizioni Su quella cosa Sì Le ho uccisi tutte Ma ne posso fare un altro Se vuoi No Non mi ha ucciso Va bene Io ciro Ando morto Non uscite Sulle mura Non uscite State dentro Tutti dentro Hanno rotto Due cancelli o solo uno? Hanno rotto Due cancelli o solo uno? Solo uno Solo uno Chiudete l'altro Stanno caricando di cavalleria Aero Reaper di nuovo Ok Preparate l'advance delle picche sul lato Come caricano gli Aero Reaper Advance di picche Gli avete fatti fuori Vedete C'è uno sulle mura a sinistra Non daci Non daci Chi ha la cavalleria Gaster Valla a cercare Se scendono Lo cerchiamo Scendono Stanno tentando di salire le Le mura Le mura Li butto a terra Da che lato? No Non stanno salendo più Ora Da sinistra della mappa Passano verso Da sinistra della mappa Vanno verso il centro Ok Forte braccio sono piazzati Appena caricano I Reaper Le mura Allora Ripeto Appena caricano i Reaper Le Imperial Pike Entrambe Da destra e da sinistra Fanno l'advance sui Reaper Che li buttate a terra Si prendono il danno Delle punte Le forte braccio E muoiono Quasi saltate Ok Che sta Porta gli scudi Sulle picche Che ci sono il cancello Cancello ok Qualcuno va a uccidere Quella arcele Sul cancello Per favore Eh io l'ho notata Le unità Le unità Non hanno bisogno Del babysitting Quindi potete andarci Cancello quale Cancello uno Si è appena buttato Leviamo le scale Io e acqua Ok Toglia tutte le scale State sulle mura Toglietegli le scale Gun Gaster Uccidi quelli Sto cercando una prescia Dalla destra Sono sulle mura E non posso andare Pippi Va bene va bene C'è Warlord Che di tirare I giovellotti Ma vogliono andare Supply Sì 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 Se non possono scendere Sono là Sono due in meno Eh Pezza Tu vieni qua sopra E tira due bombe Ah sono morto Sto Sei in attesa Ah io le sto Tivando le bombe Sulle truppe Dominic Ok Vabbè no Ci stanno Ci stanno Tira a distanza Sulle mura Cominciate a tirare Sulle unità fuori Sì sì Ok Sulle mura Forse arriva Guarda da sinistra Sulle mura Tira i cavalieri Tira i cavalieri Tira i cash Non tirare L'assassino a sinistra Occhio Mura 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 Ah però le butto lo di sotto Ah no c'è quest'altra Va bene lo stesso Eh non c'è un'altra Arriva la carica Pronti al centro Pronti alla porta Che arriva la carica Ok Cashing morti Cashing sono morti Aspettate Non fate niente Aspettate i reaper Aspettate i reaper Ora Advance Advance le due picche Via Advance le due picche Advance le due picche Advance le due picche Vai 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 Perfetto Bravissimi Patetici proprio Uccidete gli eroi Uccidete gli eroi Non è passato manco uno E non ne passerà manco uno Possono arrivare Non ne passa uno Continuate Lo dao la due Lo dao Sì Sto facendo Vado Entra una axe Perfetta Perfetta Riformate le linee Riformate le linee Stavolta siete invertiti Quindi non passate in mezzo Riformate le linee Siete a posto Mi ti sono in coda Con cosa entro poi Porta scudi Non hanno scudi No io ho Senji e mo dao Senji Senji Se non lo danni Prima che entrano No 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 Per ora no Per ora sta andando bene così Perfetto Va bene così Visto come si fa Per fermare gli eroi reaper Io no Che figo L'unità di che figo E' uno di moda Se avete Una cura Sulle unità sinistra Che le mi picche Stanno morendo Ok Stanno arrivando Degno Continuate a guardare Le mura Mi raccomando Non state tutti sotto Ho messo le scale E butto giù Però non ce ne sono sotto Perfetto Non ero E' lo fanno per diste arti Quindi può essere Che l'esterno Sparate le cavallerie Quelli sopra Se potete Che può sparare Ci sono gli altri Qua sinistra Ho buttato Gli altri I buttati giù le scale Stanno girando da sinistra Stanno girando da qua La tua est Vado Carne di cavallo Carne di cavallo per tutti Buona la carne di cavallo Advanza delle picche Adesso Di nuovo come prima Destra sinistra Destra sinistra Perfetto Guarda che bel trita carne Che avete fatto là in mezzo Madonna La bolognese Ci facciamo Che vuole bolognese? La carne di cavallo Qua è l'attacchiappare quello Gaster in seguito Stanno salendo sulle mura Ce n'è uno vicino al sabbi Penso ci sia Gaster appresso Vado io sulle mura Vado a cambiare armor Vab ce la fai vab? C'è Vabnet Una ti trovate ad aiutare Vabnet Vado io E tanto devo andare C'è un eroe con pochissima vita all'immezzo Non so se riusci Non ho fatto Chi ha shengi? Chi ha shengi sul cancello? Ti rigranate dietro al cancello Nessuno di shengi Nessuno Io sono ancora in colo Ok va bene Curate le unità perché stanno morando Stanno morando l'unità a sinistra Sì Pietro sei morto Dove vorrebbe essere andare? Vogliono salire sulle mura qua di frontale Va bene Palace se puoi Se ce l'hai qualcosa di aggressivo Che vada sulle mura per uccidere Posso Posso switchare Vado a prendere Longsword e Shield Per curare Porca troia Scatul Brutta caduta Bruttissima Dovete reggere i 50 secondi Ma 50 secondi è finita? Sì No da 50 secondi loro non posso più conquistare Non hanno il tempo di conquistare Arrivano altri Reaper eh Preparate l'advance di pick Arrivano due unità di Reaper Ragazzi quando avete la cura buttate la spam Arrivano due unità di Reaper Carica Allora fermi 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 Sto scadendo sulle mura a destra eh Fermi Advance Fatelo salire Fatelo salire Bella Stanno flancando Perfetto Continuate con l'altra advance Bravi così I Palace stiano fermi eh Eh io sono salito sulle mura perché Va benissimo Va benissimo Sono saliti quindi Eeeh Vai Sì ragazzi Ah sì 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 Direi anche Ez Ah sì Ez è un par di palle Ez perché Bravo Mythica Quei Reaper sono vettati col blind damage Che bello No quei Reaper sono vettati per difesa Però no loro non c'entrano niente col sui t eh Sì vabbè ma sono i loro amici No 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 è proprio gente a parte questa Proprio gente a parte E' gente che ci ha creduto Si dice che è gente che ci ha creduto E' gente che non c'entra proprio niente Gente a parte Gente che ci ha creduto Gente a parte che è più scema dei negro Perché almeno i negro c'è una cosa Io te lo dico Mi serve un bicchiere d'acqua Cioè veramente Almeno i negro ci hanno provato A tirare giù la breccia E entrare dalla Questa è un po' di Attenzione Andai a me negratai Aranciun Busso doni Insezione No ma anche i negro c'erano Vedi che posso voglio fare Posso far caricare Polastic Perché puoi andare a far caricare Polastic fuori finito Ma li vedo solo io Che hai scelto I baggati in piedi No 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 ci sono Ok Voi avete idea del sudore Oh no c'è Ludolf Io l'ho mandato a suicidare i miei Yax Così Comunque è stato bellissimo vedere Per sparcare kids Sette 8 unità di Kenshin Convinte che sono passate Ma io dico io Ma la gente che cazzo pensa Quando fa le guerre Eh ma non sono comandati Dobbiamo attaccare Dobbiamo attaccare Ma quelli sono i Kenshin No 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 Sui Kenshin buoni Sui Kenshin buoni Però Domi Domi comunque apprezzare Il tentativo con gli aerolipere Ma gli aerolipere Ancora Tutti questi aerolipere Non li pensavo io Dici Sì Gli aerolipere resistenti Con la mazza per far carica Butto giù scudi E col 2 Cerco di buttare giù qualche piccola Nel mentre cerco di far passare i spavli Sta come tattica Beh no ci sono riusciti a entrare Merda Sono giocata male Nell'altro Frangente però Bello Sì infatti Perché poi stavano gancando anche bene A noi che gli abbiamo fatto il flank da dietro Si sono girati A 6 Un barbo E uno spir E un lungo C'è l'aria nel finito Domi Lascia perdere Lascia perdere Ludao Stavano facendo bene Hai visto Abbiamo finito Ma perché non è morto mai Ma anche io Manco io però Bella spinta con gli aerolipi E insomma cazzo È veramente il forzo di Elm Sta cazzo di città L'esempio è quello da te La spinta è Con le shield bale E perché è stata anche tu balisti Mi dico Una volta che sono entrati Giusto come hanno fatto E ci sono riusciti Ma ci sono riusciti anche perché Non avevamo comunque